1500 giorni fa ci siamo messi in cammino e da allora l'Italia è diventata più forte e migliore. I numeri non si possono discutere, i parametri economici sono tutti migliorati. La ricchezza prodotta dal paese, il numero degli occupati, la produzione industriale, la fiducia delle famiglie e delle imprese. Abbiamo approvato leggi che hanno fatto dell'Italia un paese più civile. Il Biotestamento, il divorzio breve, il dopo di noi. Grazie alla legge sulle unioni civili, oggi in Italia tutte le famiglie hanno la stessa dignità. Anche la mia. C'è ancora tanto da fare, ma alle promesse degli altri noi rispondiamo con i risultati di questi anni di governo e con un programma forte ed è su questo che chiediamo la vostra fiducia, per un'Italia ancora più forte, per un'Italia ancora migliore. Io sono Ivan Scalfarotto, sono candidato a Milano per il Partito Democratico alla Camera dei Deputati e in questi anni di governo mi sono occupato di riforme, dell'internazionalizzazione delle nostre imprese e di diritti civili. Il 4 marzo vota Partito Democratico. L'Italia in buone mani.